Se i libri fossero fatti di dormone, leggerei una colazione. Se i libri fossero di barmellata, a merenda daremmo il passato. Se i libri fossero fatti di brutta candita, leggerei le candele di dita. Ciao, sono Ima, lo spazzolino da lenti. Prego, non fate complimenti. Usatemi pure le volte al giorno. Sopra, soffro e tutto intorno. Per amore di guizia, io le fai spazzoglia. Ciao, io sono Frizzi, dentro il vicio, il suo amico e questi sono i nostri amici. Vi racconteremo una storia. La storia della famiglia mangia tutto. Ciao a tutti ragazzi. Secondo voi, questa bella bambina, quando era percola, sua mamma le sceglieva nel vivero, patatine fritte, caramelle e crema alla nocciola. No! E nemmeno le dava il sottiotto al gusto di salame e le carezze al gusto di Coca-Cola. No! No! Allora i miei nati cosa mangiano? Eh, sono latte, senza neanche, un pochino di buro, però, poverini. Sì, ma poi non diventeranno grande e ne aspetteranno per questa botagna bianca. Eh no, per fermare le ossa e i denti e per crescere bene, è meglio continuare a bere l'acqua e mangiare l'occhio e il formaggio, perché sono fatti di latte. Io so che con il latte si fa con il burro. Mmm, si scioglie in bocca e rende buoni dolci, come le torte che cuoce la nonna nel pochino. Però mi chiede a me che è male, perché il burro fa ingrassare. Bisogna usare l'olio e l'olio d'olio d'olio d'olio. Sì, quello d'olio d'olio d'olio, specialmente per condire e friggere, è migliore che i grassi. E dove sono gli altri grassi? Nei saboni, nei prosciutti e non dimenticano nella motelera, che fa niente i ragazzi. Buona, però anche questa deve essere mangiata con giudizio, non tutti i giorni. Possiamo fare delle buone merende anche con marmellata ad esempio, oppure per la frutta fresca, inserla, soddisfa e togliere la fame con il pasto. Pane, pasta e riso. E poi alterniamo la carne con il pollo e il pesce. Per contorno, per pure corte e crude, non serve solo per pure fritte. A me piace il pesce, i pastoncini fritti. Pesce ti fa molto bene, sperando a mangiare soltanto fritto. Allora, mangio con la sua bravanda maio in mezzo. Maggio, che è un piacere. Poi, fatica a digerire, ti rende proprio nessuna faccia. La maio in mezzo non si mette da tutto, proprio in partito. Una volta che avevo la pepe non riuscivo a mangiare niente, perché noi non mi hanno sbattuto due rossi d'uovo con zucchero e vino bianco. Mi hanno preparato un zabaione buonissimo. Tutte queste cose dolose si possono mangiare con giudizio. Ma non tutti i giorni. Dopo averle mangiate, bisogna lavarsi i denti in mezzo di sbattare le volte. La maio in mezzo è un po' di sbattare le volte. La maio in mezzo è un piacere.